Musica Sicuramente l'abbassamento dei tassi non solo verso lo zero ma addirittura anche sotto zero. Questa cosa sta creando delle problematiche che non erano pensabili, nessuno di noi era abituato a pensare che si potesse lavorare con clienti che ti davano soldi per averne di meno scegliendolo. Ovviamente nessun cliente è contento di darti dei soldi e averne di meno, di conseguenza gli investimenti che noi andiamo a fare e il tempo che chiediamo al cliente di mangiare gli investimenti è profondamente differente. Io credo che ci sarà senz'altro qualcuno che tenderà ad andare verso la grande dimensione concentrandosi quindi su standardizzazione dell'offerta e economia di scala con taglio di costi. Altri, come senz'altro noi, cercheranno di cambiare l'offerta, agire sul tempo di investimento e quindi gli strumenti non quotati alternativi che pagano un prezzo di liquidità ma che consentono di avere ritorni probabilmente molto più alti di investimenti normali, aiuteranno a superare l'impasso dei tassi bassi. Senz'altro il pre-rateguidi, così come anche gli investimenti in credito, in supporto e in affiancamento alle banche, aiuteranno una parte del portafoglio del cliente che può essere resa illiquida concordandolo con il cliente, ad andare verso investimenti, faccio un esempio, le infrastrutture sono investimenti che richiedono molto tempo ma che danno rendimenti più alti di un normale investimento e quindi investendo in queste cose oltre ad aiutare l'economia reale si alza il rendimento del cliente facendogli pagare solo su quella parte di portafoglio che se lo può permettere il prezzo dell'illiquidità. Superiamo i tassi bassi, quindi di nuovo tassi bassi, grosso problema ma chance e occasione per chiedere più tempo al cliente che altrimenti probabilmente non ci avrebbe mai dato.